Ah! Perché ti stai trattenendo? Pensi che non possa reggere? Io non sarò tenera, Steven. Vuoi tornare a casa dalle tue gemme? No! Hai paura di essere forte? Sei patetico? Sei debole? Non lo so! Is that all? Adesso si ragiona! Più forte! Più forte! Mostrami ciò che sai fare veramente! Avevi ragione, Jasper! Io mi stavo trattenendo